Grande Yavi, Yosef a tutti. Grande Yosef, Yosef. Tutto un posto? Sì, bello arrivato. Grazie mille, un piacere. Ciao a tutti. Cosa chiedi? Una foto? Sì. Una foto. Forza Inter. Domani. Veloci, veloci che dobbiamo andare. Fiammela pure a me, se va un ballo. Anche io sfido. Veloce, veloce. Veloce, veloce. Veloce, veloce. No, ma Michele, questo è il momento. Perché sto sfida? Grande Yosef! Grande Yosef! Sì, sono fissato. È possibile. Sorridente, tranquillo, anche abbastanza sereno.